Amarella Caramazza, partirei appunto da lei alla luce appunto di queste vicende che stanno insomma scuotendo e come la politica ma anche, dicevamo, la tenuta della maggioranza. Ma esistono degli anticorpi contro queste situazioni, Caramazza? Buongiorno intanto. Ma allora esistono anticorpi a vari livelli sicuramente, un primo anticorpo è quello della comprensione, della consapevolezza da parte di chi opera nel campo economico e nel campo politico rispetto ai rischi che stiamo correndo per effetto di una invasione sostanzialmente neanche tanto silenziosa di forze criminali che in qualche modo si vogliono impossessare dei mercati, si vogliono impossessare dell'economia di questo paese. I casi che stiamo osservando sono casi che danno qualche rappresentazione del malcostume, del malaffare che c'è. Non necessariamente bisogna arrivare al momento in cui la procura viene coinvolta per capire che i meccanismi di decisione e di azione che in questo momento caratterizzano tutti coloro che hanno in mano il governo del paese sono per certi versi contaminati da visioni in cui la linea di confine tra ciò che è giusto e ciò che è sbagliato è un po' messa in discussione. Senta ma, mi verrebbe da chiederle, capisco che è una domanda da, non lo so, che pensa come un macigno, no? Cioè, calo tutto questo discorso però cerco di essere pragmatico, no? Cioè la domanda dovrebbe essere che armi abbiamo contro la corruzione, no in assoluto. Ma è una domanda generica, capisco che appunto ci vorrebbero puntate e puntate per rispondere. Mettiamola così, oggi c'è l'autorità anticorruzione, no, c'è Cantone, che diciamo è un pochino l'organismo al quale tutti chiedono una sorta di certificato di buona condotta che l'ANAC peraltro, per anche motivi strutturali, non è in grado di fornire. E allora come si fa, come ci si mette al riparo da questo, cara Mazza? Ma guardi, intanto la domanda, come lei ha detto, è una domanda da mille punti. Però io credo che ci siano livelli vari di contrasto. C'è un livello che è quello della sanzione penale laddove i casi vengano messi in evidenza e dove i casi vengano in qualche modo conclamati come tali e questo naturalmente spetta all'autorità investigativa, all'autorità giudiziaria. Però il problema è che prima di arrivare a quel momento noi abbiamo notato, anche attraverso gli studi che abbiamo fatto e peraltro sono riportati nel libro, che c'è una sorta di normalizzazione dei modi di agire nel mercato nazionale, direi, e non è solo un problema del sud o del nord, ma è generalizzato, in cui l'uso di scorciatoie per poter raggiungere i propri risultati è un uso abbastanza diffuso. Il problema vero è che non sempre chi lo usa si rende conto della gravità e dei rischi che corre nell'utilizzare queste scorciatoie. Noi abbiamo osservato casi di imprenditori che si sono serviti di intermediari e di soggetti che praticavano la corruzione pensando che questo fosse un ricorso a una qualche sorta di agenzia di facilitazione di servizio che in realtà poi nascondeva dietro rapporti e interessenze con mondi molto più complessi e anche molto più difficili e più rischiosi. Casi di imprenditori che hanno fatto entrare in qualche modo all'interno delle proprie realtà aziendali soggetti proprio in virtù del fatto che avevano questi qualche elemento di facilitazione del proprio business. Quindi io credo che una forma fondamentale di contrasto sia quella della diffusione di una conoscenza e di una sensibilità del rischio che noi stiamo correndo nel fare entrare nell'economia legale modalità che oggi vengono in qualche modo normalizzate sotto forma, sotto il capitolo del malcostume, della corruzione ma che poi si va a vedere che spesso sono la punta più evidente di un fenomeno molto più nascosto che è anche i contratti criminali molto gravi.